Io eviterei di passare dal fatto che ci sono due questioni molto importanti, tra l'altro una riguarda pure il partito nel quale sono arrivato io, quindi non mi esimo, alla telecettimazione della magistratura. C'è un tema che non riguarda tanto il processo di Sirio, ma c'è un'enorme questione morale, etica e politica che riguarda la Lega. Pocchi giorni prima delle elezioni europee, venne detto da un altissimo esponente del governo, disse che i rapporti tra la Lega e i clan devono essere chiariti. Quell'esponente si chiamava Luigi Di Maio. Ora c'è un tema che la Lega ha avuto come consulente a Rata, Salvini lo ha proposto come presidente di Areta, questo non significa niente dal punto di vista giudiziario, ci mancherebbe. Però c'è un problema politico gigantesco che riguarda delle connessioni che arrivano al numero uno di Cosa Nostra. Non stiamo parlando di questioni di bottega e di quartiere. In un partito che ha si è fregato un attimo a fermare. Restate con noi pochissimi secondi di pubblicità e poi torniamo a parlare del rapporto non sempre trasparente tra affari, politica e magistratura e lotte tra correnti. A tra poco.